Amici di TreviMetri, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le tendenze a meglio lungo termine. Il caldo si è ormai impadronito a pieno titolo del Mediterraneo e dell'Italia, sarà così anche negli ultimi giorni di maggio, anche se bisognerà fare attenzione a quest'area di bassa pressione che potrà andare a isolarsi sul Mediterraneo occidentale e portare delle note instabili soprattutto al nord e sui settori tirrenici dove avremo la possibilità di qualche acquarzione, qualche temporale a carattere sparso. Il contesto però continuerà a rimanere estivo con temperature sopra le medie stagionali, farà caldo soprattutto al sud dove più ingombrante sarà la presenza dell'anticiclone africano e qui avremo temperature decisamente elevate per il periodo. Per maggiori dettagli però vi invito a rimanere aggiornati sul nostro sito trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita sempre di TreviMeteo.